Alcuni mesi dopo il 14 agosto del 2018, data dalla tragedia di Ponte Morandi, una soffiatta ci aveva detto che presto sarebbe stata aperta un'altra inchiesta sulle fattiscenti condizioni delle gallerie delle autostrade Liguri, alcune delle quali rischiavano di crollare. Ma ogni nostro tentativo di trovare conferma era andata a vuoto. Nella Guardia di Finanza, titolare delle indagini, nella Procura avvallarono la possibilità di una nuova inchiesta sulle autostrade. In quelle condizioni rendere pubblica l'ipotesi di una nuova indagine sui tunnel sarebbe stato un azzardo. Il rischio era creare altro terrorismo in giorni in cui già viaggiare sui viadotti faceva paura a tutti. Passa circa un anno, siamo al 30 dicembre del 2019, quando le volte della galleria Bertè sulla A26 fra Genova e Alessandria cedono investendo un'auto. Crollo che accade proprio mentre i vertici di autostrade per l'Italia sono nella sede della regione Liguria per rassicurare sulla sicurezza dell'autostrade. Quel cedimento è uno schiaffo, da cui nasce una delle inchieste parallele sull'autostrade insieme a quella sulle barriere forno assorbenti e sui viadotti. Accertamenti poi riuniti in un'unica inchiesta appena conclusa con l'avviso di conclusione indagine, recapitato a 47 indagati, 27 dei quali sono già a processo per il Morandi. Fra loro l'amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci, il direttore generale Paolo Berti e il numero uno delle manutenzioni Michele Donferri-Mitelli. Poi 34 fra ispettori e vertici di Spea, la oldiche di Benetton, deputata ai controlli delle infrastrutture. Capi di imputazione sono 153 per i mancati controlli che hanno messo in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti sulle tratti Liguri. Nel Mirino almeno un migliaio di ispezioni false o domesticate sui viadotti dell'autostrada Liguri, la manutenzione giudicata carente dei tunnel e il crollo di quasi 3 tonnellate di cemento della Bertè e poi lo scandalo delle barriere antirumore che con il vento rischiavano di abbattersi sulle auto. Fra le emissioni più gravi quelle che le ispezioni nelle gallerie venissero eseguite senza neppure scendere dalle auto, a volte percorrendo le tratte interessate a 60 km all'ora. Non solo, le 24 gallerie della rete Liguri le ispezioni non sono mai state svolte. Dalle inchieste parallele, insomma, la triste conferma che la tragedia del Morandi non è stato un caso ma un disastro annunciato, un disastro figlio della sciagolata gestione di autostrade per l'Italia, attesa a incassare tanto denaro a discapito della sicurezza di milioni di automobilisti.